Le app forme. Clicca sulla categoria forme presente nell'app store a sinistra. Avrai a disposizione diverse app forme, rettangolo, cerchio e linea. Di ognuna di esse troverai alcuni stili preconfigurati che i nostri designer hanno pensato per te. Trascina una forma nell'area di lavoro per iniziare a personalizzarla. Clicca con il tasto destro sulla forma e seleziona porta indietro per modificare l'ordine delle app.